A 17 anni mi son detto, possibile che il mondo sia tutto cattivo così? Sono andato in America. Testimonianza di Giovanni Battista Giraudo, detto bambin, nato a Vignolo, classe 1893, contadino. A 11 anni andavo già da Vachè, era la strada di tutti. A San Bernardo di Cervasca guadagnavo 45 lire l'anno, dalla primavera all'inverno, 8 mesi. Alle 4 del mattino ero già in piedi. I padroni non avevano nemmeno da mangiare per loro. Tengono più bene i cani oggi che i servitori allora. Dormivo sul fienile avvolto in una serpiera, in una tela di sacco di quelle da dare da mangiare alle bestie. A 14 anni sono andato a servire i muratori. Ero già forte. Guadagnavo 30 soldi al giorno dal mattino alle 5 e alla sera alle 9. Da un sole all'altro, su per le scale a pioli a portare pietre e mattoni. Una vita troppo dura. Allora mi sono messo anch'io a fare il commerciante di capretti, come mio padre. A 15 anni guadagnavo già 10 lire la settimana, camminando giorno e notte. Il primo capretto l'ho comprato ai Ciot di Roaschia. Sono partito alle 3 di notte, ho camminato due giorni per guadagnare 2 lire. A 17 anni mi sono detto, possibile che il mondo sia tutto cattivo così? E' arrivato dall'America un mio cugino, Gepu Parola, Gepu de Magnasa, un uomo di 30 anni, che mi ha detto, st'autunno torno in America. Se vuoi venire, là io parlo a uno e là io ti piazzo. Ti trovo un lavoro da monte o da valle, ossia in un modo o nell'altro. Mio padre ha preso in prestito le 500 lire del viaggio. L'agenzia ha fatto le pratiche. Siamo andati in treno fino ad Avr. Io avevo il passaporto, anche se ero minorenne, Gepu garantiva. Era l'ottobre del 1910. A Avr ci siamo imbarcati sulla nave Savoia. Era la prima volta che vedevo il mare. Ero giovane. Non pensavo a niente. Avevo già del coraggio. Eh, la vita a Vignolo era troppo grama. Tutti parlavano dell'America. E io mi dicevo, l'America sarà meglio di Vignolo. Andiamo in America e qualcosa sarà. Ne andavano 100 all'anno di Vignolo in America. I Vignulin sono gente in gamba. Gente piena di iniziativa. Gente laboriosa. A Avr sulla nave saremmo stati 2000-3000. Tutta povera gente. Di tutte le razze. Durante il giorno passeggiavamo sul ponte della nave. Parlavamo anche con gli altri italiani. Ma ci tenevamo piuttosto tra noi di Vignolo. 18 giorni è durato il viaggio. A New York, a Castelgarda, c'era la visita medica. Il dottore ci guardava in faccia. Uno di Vignolo la faccia non l'aveva bella. Il medico l'ha segnato con il gesso sulla vestimenta. Come si fa con le bestie. E lui è andato avanti. Si è cancellata la marca. Poi si è infilato tra di noi abili. Era uno del 1884. Già un po' anziano. A vedere New York, con i palazzi di 60 piani, a vedere la Statua della Libertà, mi ha fatto impressione. Siamo subito partiti in treno diretti per la California, per San Giuseppe di San Francisco. Sei giorni e sei notti di treno. C'erano i neri che passavano a vendere pane e salame sul treno. Che distese di terra buona. C'erano tanti campi di meliga. Ogni pianta aveva tre fuse, tre pannocchie, e mandrie di vacche, e tante pecore. Poi le montagne del Colorado. Poi le industrie straordinarie di Chicago. Tutte le fabbriche che fumavano. Ci facevamo coraggio tra di noi. A San Giuseppe c'era uno zio degli attuali proprietari della trattoria dei passeggeri di Vignolo. Aveva un'osteria e ci siamo alloggiati lì. Noi avevamo ancora 100 lire. Pagavamo uno scudo al giorno per mangiare. Lì, a San Giuseppe, c'erano tanti giardinieri italiani che prendevano gli emigranti e li facevano lavorare sotto di loro. Facevano già i furbi con gli italiani. Io e Gepun de Magnasa ci siamo piazzati da uno di questi giardinieri. 25 dollari al mese, lavorando dal mattino all'oscuro. Alla sera, all'oscuro. Poi è venuto a trovarci uno di Vignolo, Dreiu de Barol, e mi dice Qui ti rovini. Sei tutto il giorno nel bagnato. Io sono già pieno di dolori. Allora abbiamo parlato con uno di Borgo Sant'Almazzo, che era in America da alcuni anni. aveva una piccola cascinotta. Con Gepu sono andato ad aiutarlo a raccogliere l'uva. Questo qui di Borgo ci aveva promesso di piazzarci e noi lavoravamo per lui senza prendere un soldo di paga. Io avevo solo più uno scudo in tasca e Gepu anche. Allora decidiamo di andare a cercare un altro lavoro in campagna. Ci siamo detto Anche solo che ci governino, anche solo che ci mantengano, poi verrà anche la bella stagione. Mentre giravamo per la campagna uno ci riconosce come italiani. Era un certo borgetto di Castelnuovo d'Asti. Da dove venite? Ci chiede. Dall'Italia. Anch'io vengo dall'Italia. Volete lavorare? 25 scudi al mese. Sì, accettiamo. Questo borgetto era il fattore di un americano e dirigeva un'azienda di 100 giornate. Lì, alle 3 del mattino, eravamo già in piedi a preparare i cavalli. C'era da portare 30 giornate di vigna e il resto era a frutteto, pesche e prugne. C'era da passare la cultiveta, una specie di erpice a dischi che sbriciolava la terra e poi passavamo il rullo, l'attrezzo per rompere le zolle e la terra diventava liscia come la carta. Là, dopo marzo, non piove più. La terra è buona. Le pesche, le prugne, l'uva erano una meraviglia a vederle. Con l'uva si faceva la vinfandel, 14 gradi d'alcol, 2 o 3 miri ad uva per vitigno. Veniva poi ancora un secondo raccolto con 10 gradi. Alla domenica andavo a lavorare da altri americani. Ero contento come una passura, come un uccello. Mi sono messo da parte quasi 2000 lire. Ma con l'autunno io e Gepu decidiamo di andare a Ewergris dove c'era un americano tanto nominato che si chiamava Miller. Uno che aveva mille giornate di vigna e poi tanta altra terra. uno che comprava tutta l'uva della zona e aveva una vineria, una vinicola. Dava di paga 30 scudi tutti i mesi dell'anno. Da Miller lavoriamo 50 giorni. C'è un cinese che ci fa da mangiare. Il capocantina è jugoslavo. Ci sono dei tedeschi e anche qualche italiano. Uno è della provincia di Cuneo. Si chiama Kairot l'uva la raccolgono a contratto una sessantina di giapponesi. Arrivano con i driver con i carri a tiro da quattro noi tutto il giorno a caricare uva. Alla sera abbiamo le braccia stanche rotte. Apprendiamo che a 100 km da Ewergris c'è una fabbrica di cemento di proprietà di uno svizzero e là c'è il padre del Giuseppin che fa un po' da boss da capo. Mio cugino Gepu mi dice andiamo là la pagano 10 lire al giorno 2 dollari per 10 ore di lavoro andiamo là a insaccare ci sono più di mille operai si mangia tanto cemento tanta polvere lavoriamo nei giorni festivi e in tutti gli altri giorni niente libretti di lavoro niente uno di Vignolo Martini Artuc è morto così ogni autunno 10 persone devono scendere a pulire dal di sotto le botole si deve andare sotto i frantoi dove si incrosta la polvere del cemento lui va là sotto a lavorare viene giù una valanga di polvere e lo seppellisce alla moglie hanno dato 4.000 lire in tutto come risarcimento del marito morto lavoro 4 anni al cemento poi scoppia la guerra i giornali che stampano a San Francisco il popolo e l'Italia dicono che noi italiani dobbiamo rimpatriare combiniamo in 3 o 4 il viaggio è pagato ci diciamo torniamo in Italia sarà mica la fine del mondo ho 10.000 lire di risparmi nell'agosto del 15 ci imbarchiamo saremo 3.000 sul bastimento siamo venuti 400.000 italiani dall'America a fare la guerra in Italia Napoli è tutta imbandierata per il nostro arrivo il 4 settembre sono già arruolato a Genova nelle salmerie nel gennaio del 1916 sono già a Civitale con il 158esimo reggimento della brigata Liguria poi sugli altipiani di Esago poi al Pasubio poi sul Monte Corno ma eravamo carichi di pidocchi mangiavamo un po' di riso malcotto con la torreggiana una porcheria dovevamo fare il nostro dovere se non andavamo avanti gli ufficiali ci sparavano infine il 4 novembre del 1919 la guerra finisce torno a casa libero ma a casa non c'è il lavoro allora vado di nuovo in America sempre con mio cugino Gepo de Magnasa sempre al cemento cosa fare? ricominciamo da principio a impacchettare il cemento 5 dollari al giorno di paga 8 ore di lavoro ma c'è da rovinarsi la salute resto là altri 4 anni risparmio 100.000 lire nel 1924 torno a Vignolo 9 10 1 2 2 3 3 3 2 4